Ciao a tutti! Oggi prepareremo il bignè con mousse di prosciutto crudo. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono bignè, prosciutto crudo, burro, brandy e ricotta di pecora. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prosciutto e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro ed il brandy ed azionare i bimbi per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 3. La mousse è pronta. Trasferire in una sac a poche. Riempire i bignè e mettere da parte. Decorare i bignè con un po' di mousse. e spolverizzare con della granella di nocciolo di pistacchi. Proseguire così con tutto il resto dei bignè e riporre un frigo per almeno un'ora prima di servire. Bignè con mousse di prosciutto crudo. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!